una specie di automatismo cerchio firenze 77 attraverso robertosetti dizionario del cerchio firenze 77 a cura di vb guscio mentale dirò che la stessa sorte dei gusci astrali vedi guscio astrale tocca anche al corpo mentale e ai gusci mentali se un sensitivo si mettesse in comunicazione con un guscio mentale questo sensitivo parlerebbe forse non risponderebbe alle domande ma ripeterebbe frasi che comunemente quell'uomo al quale apparteneva quel corpo mentale diceva non direbbe nulla di nuovo come una specie di automatismo 57 g